Ciao a tutti, mi chiamo Valerio La Sampia e sono il titolare di Guadagnarseli. Io e la mia famiglia ci occupiamo di produzione e ricerca di piante acquatiche da due generazioni. Oggi vi parlerò di fior di rotonano. Il fior di rotonano è una pianta che si può coltivare in piccoli contenitori, diametro circa 20 cm. La sua stagionalità inizia a vegetare verso aprile, quindi i rizzoni vanno piantati d'aprile a maggio. La fioritura è estiva e i fiori possono essere a coppa, semplici, multipetali e di diverse colorazioni, tutte che vanno dal bianco, rosa, rosso e bicolore. Li potete trovare tutti sul nostro sito www.guadagnarseli.it Ci vediamo al prossimo appuntamento.